Benagattauso in Novas, canale 40, oggi 17, argiola da 2018. Ozzana, la bomba ecologica entra sul deserto industriale, impresari fuori, lavoratori dispediti, su Chiavara la stessa amianto, sferramenta e botuso, botuso mera, chi non va in pensare a nuda de bono. Esti sugli antagattao Luigi Crisponi, riformatori in Parisi, con sa commissioni d'inchista, sa primo averiguata a risè, una visita a Ghinara da Crisponi, esti stettia necessaria, appreciso poi scollegas a mera, chi non vunti stettiuso mai in noi. In Ozzana, anti bio, sugli non si contara, estannai su disagato ambientale, sa disgrazia, già imbargao su cappannoni dessa ex Montefibre, aonde vunti medasa e sospittu su vossa presenza de'aliga inquinanti. Sargiola industriali, aribì una smenguatura dei straballatori, si dai 2.500 su de'una scanto de'annusa oi, ai 500 suoi indie, e totu su Chiavara de'sugli Vigliara, vunti in ruina sa la sarasa su nuda, imeso de'una potenziale bomba ecologica. Esa visita a Ghinara della Commissione dei suoi consigli regionali certificara su disagato ambientale. I schiacciasi a Ghinara della Commissione, vunti dottus in caralasa assistau, chi esti stettiu ausenti o forzisi non arittento mai safico del suo governo, e promettili chiaraboni luigi a pizzo del suo traballo di Arpas e Ispra, e a pizzo della varta dei suoi principi possugali, chini imbruttara, pagara, cutagira, anta inghizza e esaudizionisi principiandi dei sassessorausas industria, ambiente e traballo, seguendi da poi con Arpas, corpo forestale e associo su de'impresa. Gemellaggio, Sant'Antiogo, Municipalità di Dettiro, Nasciria, che su Mab, su fundo librario, in carava esargumento su di archeologia. Su maestro libaneso, Hassan Badawi, in visita in Sant'Antiogo, alla donai il libro su Mera, su comuno sul città, non ti permetti di creare una corbata del libro su Archesumab. Sa forti era su me gemellaggio, intre Sant'Antiogo, essa Municipalità di Dettiro, Libano, sottascritto si sta ad invattu possa comparsi dura culturale su un cambio di professionalità di maestria e conoscenza. Su un cambio culturale e tutto, esti sugli esti pigenti setti, con sommaggio dei suoi professori libanesi Hassan Badawi, a nomini dessa Municipalità di Dettiro, e dessa Direzione Generale dei Sant'Antiograti di Libano, una corbata manna del libro, su che non ti permetti di pesare un uvundo librario e specializzare, e con già i smelosi pubblicazioni scientifici, in casa a pizzo su dessa archeologia, su vundu aressi vattum e in sudretto del suo Museo Archeologico Ferruccio Barrecca. Pochintipo Sant'Agozai, esi scientisi del dottu Sargiola, ha segnalato su seventu de Giovia, di Gianoia e Setti de Meria, che su Mab, sarà ragionata del suo prof Badawi, a pizzo su dessa archeologia fenicio-punica, in luogo de sconferenza della Summer School d'Archeologia Fenicio-Punica. Sargumento ha ressi ispenicioso e sa città di dettiro, mensu mediterraneo orientali. Cadeseta, tottuso a sabraggia, basciu de Nemus, sistali estipodottus in cadeseta, vinas a pochini aridentus, orti differenti in sa vida, e non debolete governai su corpus in sudottu, tottuso teniti dereto si gozai dell'acqua di Sommari o dei meriai a giunta di Sombra dei suvarasolli. O, in dia, grazie a sa sensibilità di a suo traballo della cooperativa sociali, zolchi, care, dei santanti ogu, i disabili di Sussulci tenenti in un barranco del manco e si indivolenti gozai, sistali, faccia a Sommari da cadeseta, aonde esti nascio su primo instabilimento conforme a ogni abisongio dei schiedenti attrasa, abilesa. Sistabilimento ca duzenaive, domo dei sussimibili in tabarchino, sagatta la mensa oraggia della salina e esti furnini d'egaminadrojo, chilombi di vinas amari, solarium e sedia job possi entrare in acqua delle persone con i strobus ai smovili, e inzandosi un nemmus in tenda la villa di Deus Piticus e torraso grazie a sa cooperativa solchi, care. R.V.M. Sintima d'Italia nostra a suo comune d'Iglesias a suo socio post-amparo dei sbeni ambientali della cultura e dell'arte intima a suo comune d'Iglesias a maniera che vonga afficcumano a pizzo di questo studio delle attualizzazioni per il sbaglio della fabbrica di bomba di R.V.M. in domus novas a sagali fabbrica produsse il disarmamento in perauso mensa guerra del suo Iemen il suo socio ha ripresentato sintima a pustisi dei desideri da sa pregunta della concessione di dirizia presentata a suo comune ambientale con il progetto su un nuovo poi scali si pregunterà su autorizzazione a suo comune d'Iglesias di fatti si appare a suo socio e ha restato a disora e pago legittimo che il suo comune d'Iglesias donna le autorizzazioni in cui stu dretto di Licao de sa procedura Crasa Primunotti a che sarena Mirastelle principi era Mazinga Z Infiniti de Giungi Shimizu su dei 4 ottobio de sa resigna cinema azuta desisteduso martesi de Giacetti Argiolasa Carbonia era ricci sa proiezioni de su film Mazinga Z Infiniti de Giungi Shimizu ha incuruto de sa società di umanitaria centro servizios culturali di Carbonia cinema sotto le stelle sta credendo in media al suo pubblico possa capacità di sua di presentare le operazioni dei primori nella rassassinica massiva su billetto voi entrare esti de 4 euro smenguavo a 3 euro su poi giovani su prospetticos de 21 annus e poi totto i socios de su cinema Arci Ucca e Fic grazie a poi i show vera os informazioni del canale 40 si intende in desedizioni in beniente grazie